E' morto. Qui dunque c'è qualcun altro. Almeno abbiamo il primo codice. Ci servono tre codici. E' morto. E' morto. Dammi un attimo di respiro. E' morto. 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 dietro di me dove sono? no Piers, protezze! Capitano! Ne abbiamo tutti! Apriamola! Piers, sei pronto? Grazie! No! 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 Andiamo! Ti seguo! Roger! Piers! Mi sono! No! 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 Di Mann da! Non c'è tempo per queste cose. Non c'è tempo per questo. Non c'è tempo per questo. Non c'è tempo per questo. La porta aerea è dotata di assiglieria antiaerea. Eliminate quei cannoni, Alpha. Un aereo contro una porta aerea è intera. Sembra plausibile. Ehi, Beers, com'è la tua mira? Ma è stata meglio, Capitano. I preparativi per il lancio sono iniziati e da qui non possiamo fare nulla per bloccarlo. Il missile contiene un virus all'interno. Se va a segno farà molti più danni di una testata normale. Per fermarlo saliremo sulla porta aerea. Non c'è scelta. Ok, pronti. Ora vado. Fresor! A.D.A. dice di voler portare Raccoon City a me. E sappiamo solo di un unico missile. U.G., rispondete. Ci sono forse altre navi? Le fonti dicono solo la porta aerea. La Master City è a tutti. La Master City è a tutti. Tutti i cannoni anti-aerei sono distrutti. Ok, serve un punto da terra. Fermiamo il missile. U.G. ad Alpha. Il conto alla rovescia del missile è iniziato. Trovate la centralina e fermate il lancio. Ricevuto, U.G., ci pensiamo noi. Il percorso è bloccato. Ti penseranno gli explosivi a sgombrato. Ok, ti compro io. Il percorso è bloccato. Il percorso è bloccato. Grazie a tutti. Ah, mancava solo questo. Merda, il gioco si fa duro. Presto, Pierce, non c'è tempo! Lancio del missile annullato. Ben fatto, Pierce. Ora torniamo sull'aereo, in modo da uscire da qui. Pierce, alla crew! Ti tiro su io! Ehi, capitano! Sono in svantaggio qua giù! Un aiuto! Fugia d'acqua! Abbiamo un'emergenza! Il missile è quasi pronto al lancio! Come diavolo? Ah, non c'è tempo permesso per la distruzione del missile accordato! Quella cosa ci ostacola! Mettiamo fuori uso quei missili! Ricevuto! Va verso la città! Qui, FOS. C'è qualcuno lì? FOS? Qui, Chris Redfield, BSA. Un momento, mi collego all'agente Leon Kennedy. Cosa? Leon! Leon, dove sei? Chris, siamo appena fuori da C. Perché? Andatevele subito! Regatta di fuzzura! Che vedessi? Abbiamo beh... Cosa? Cosa? guna? Be e Cami ... Pic No! 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 Leon! Leon! Stai bene! Sì? Ma le cose si mettono male. Mortano. Diavolo! Chris ascoltami. Devi salvare due ostaggi da un pozzo petrolifero subacqueo. L'agente Sherry Birkin e Jake Müller. È il figlio di Albert Wesker. Wesker! Chris ha sviluppato gli anticorpi per il virus C. Ricevuto. Vado subito. Bene, grazie. Leon, aspetta. C'è una cosa che devo dirti. Ada Wong è morta. Ricevuto. Sherry e Jake hanno bisogno di te. Non deluderli. Chi per il virus C. Chi per il virus C. Chi. 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 Chi.